Dote famiglia 560 euro se hai dei figli. Attenzione ti vengo a leggere tutti quanti i requisiti e vengo anche a condividerti le circolari ufficiali. Quindi iniziamo via carta famiglia contributo annuale a favore dei minori per accedere ai servizi di sostegno e alla genitorialità, finalità educative e sostegno al percorso scolastico. Sostanzialmente i signori sono soldi. Dote famiglia è un contributo regionale rivolto ai figli con età minore di 18 anni e serve appunto per incentivare il carattere educativo, ludico e ricreativo. Le spese in oggetto del rimborso devono riguardare le tipologie di prestazioni, di sostegno alla genitorialità, esempio non esaustivo, centri estivi, dopo scuola, babysitting. B percorso al sostegno scolastico e apprendimento delle lingue stranieri. Titolo diciamo esempio ripetizioni e corsi di lingua. C servizi culturali ad esempio accessi ai musei, teatro, abbonamenti eccetera. D servizi turistici, gite scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche. E percorsi didattichi educativi ed artistici. F attività sportive. A titolo ad esempio corsi, ritiri sportivi, psicomotricità. Chi può richiederla? Può richiedere la dote famiglia il titolare di carta famiglia che deve essere in possesso dei seguenti requisiti. Carta famiglia attiva, ISEE minorenni in corso di validità con valore inferiore o uguale a 35.000 euro. E qui tanti mi dicono ma 35.000 euro come fai ad avere la carta famiglia? Nel modello che è presente qua che adesso andrò a condividere, vedrete che c'è scritto questo. Almeno un figlio minore a carico nel nucleo familiare. E poi dopodiché vi invito proprio ad andare a verificare tutti quanti i requisiti, il portale. Adesso ve lo vengo subito a condividere, così anche voi avrete modo di andare a vedere che quello che vi dico è reale. Perché ho visto che tanti mi hanno scritto ma come è possibile? Ma scusate, ma secondo voi vengo a dirvi un bonus che non esiste. Come vedete Friuli Venezia Giulia, regione autonoma, carta famiglia, contributo annuale. Andiamo sotto e troviamo proprio i requisiti. Ise minorenni, almeno un figlio, ise 35.000 euro. Quindi come vedete non ho detto nulla che non sia vero. Per tutte le tue domande scrivili nei commenti, sappiate che altre regioni potrebbero dare indietro a questa iniziativa, quindi seguitemi che vi aggiorno.